Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi un video che si ricollega a quello che è uscito settimana scorsa relativo sempre quindi alla Weekend League e nel quale andiamo a parlare di come funziona il matchmaking un qualcosa di oscuro che fino ad ora non ha avuto un vero e proprio riscontro, non sappiamo bene effettivamente come va a funzionare sono state rilasciate ogni tanto delle informazioni sommarie sull'argomento ma chiarezza non è mai stata fatta così come chiarezza non è mai stata fatta sul punteggio abilità parleremo anche di questo e insomma in base a quello che sappiamo, in base a quella che è la mia esperienza cercherò di andarvi a fugare qualche dubbio quindi senza perderci troppo in chiacchiere passiamo subito sulla schermata di gioco dove voglio portarvi subito degli esempi, ok? Perché spesso e volentieri una delle domande più frequenti è ma porca miseria, com'è possibile che hai beccato questo avversario così scarso con una squadra così debole sul 28-0, 29-0 eccetera 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 andiamo a vedere ad esempio il buon Jull & Mike che ha fatto primo al mondo un matchmaking da pazzi tra l'altro se andiamo a vedere le partite che ha giocato questa settimana, ha beccato un sacco di pro player eccetera eccetera poi arriva l'ultima partita, 29-0 ha beccato uno che stava a 19-7, ok? come ce la spieghiamo sta cosa? stessa cosa gli è capitata ad esempio sul 25-0, ha beccato uno che stava a 16-6 come ci spieghiamo questi casi anomali? Perché sono delle anomalie, ok? quello che è stato detto più volte è che il matchmaking della VL è calcolato su una cosiddetta forma, ok? cos'è la forma? La forma è il numero di vittorie che vengono messe una dietro l'altra consecutivamente, ok? la forma è calcolata con un più 1 per la vittoria e un meno 1 con una sconfitta e se non erro il massimo valore della forma è compreso tra 10 e 15 questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se io vinco 10 partite di fila o ne vinco 20 ho la stessa forma, ok? Ho 10 punti di forma qualora dovessi perdere una partita dopo averne vinte 10 ovviamente come vi ho detto me ne viene sottratta 1 e la mia forma sarà uguale a 9 cosa fa il matchmaking? Il matchmaking cerca di accoppiare quelli che sono giocatori che hanno una forma simile e già qua magari state iniziando a capire perché Dull e Mike sul 25-0 ha una forma di 10, ok? vuol dire che ha il massimo possibile questo ragazzo, il buon Cardiacameba che è sul 16-6 cosa può essere successo? può essere che ha perso, che ne so, le prime 4 partite per dirvi era 0-4 poi ne ha vinte quindi aveva una forma di meno 4 poi ne ha vinte 8 per dirvi quindi era andato a 4 di forma poi ne ha perso altre 2, era sceso a 2 e poi ne ha vinte altre 8 ed è andato anche lui a 10 di forma quindi questo Cardiacameba nel momento in cui ha matchato Dull e Mike aveva la sua stessa forma e per quanto ingiusto, eccetera, eccetera fa parte del gioco delle possibilità per cui, come vi ho detto nel video relativo ai consigli WL cercate di giocare meno partite possibili il venerdì perché questa cosa di venerdì avviene sempre al contrario ossia beccate sempre quelli con la vostra stessa forma però calcolata su poche partite che sono normalmente ovviamente se di venerdì uno ha 10 di forma solitamente le ha vinte tutte, ok? quindi più si va avanti più si buttano nel carderone persone che magari hanno raggiunto una forma massima però vincendo tante partite di fila ma avendo comunque un brutto risultato perché ne avevano perse prima delle altre è possibile che si vadano a matchare anche dei Pro ed è per questo che, ad esempio, su PlayStation dove c'è una così grossa utenza i Pro matchano tanti casual player che magari stando 12-3 dove aver perso le prime 3 e vinto poi tutte le 12 successive con una forma di 9 che è quasi quella massima prendiamo anche un altro esempio, quello di Zidane che è un altro Pro Player come potete vedere lui sul 16-0 con una forma di 10 ha beccato uno che stava 22-6 oppure sul 26-0 ha beccato uno che stava 19-6 sull'11-0 ha beccato uno che stava 18-6 come vedete lui con il matchmaking ha avuto un po' più di fortuna ha tolto qui che ha beccato un altro che era 15-0 sul 25-0 ne ha beccato uno che era 18-9 questo per farvi capire quindi quanto la forma incida nel matchare quelli che sono gli avversari in Weekend League e questa è l'unica cosa che sappiamo per quanto riguarda il punteggio abilità invece non sappiamo se... come funziona questo non si riesce a capire da quello che si decifra è che più partite giochi il venerdì più il puntuo punteggio abilità è alto più partite vinci di fila più il tuo punteggio abilità è alto più è alto il punteggio abilità dell'avversario che hai contro più punti ottieni ovviamente quando perdi meno ne ottieni meno ne perdi se l'avversario era con un buon punteggio abilità più ne perdi se invece l'avversario aveva un punteggio abilità basso questo per quanto riguarda il punteggio abilità ma su questo non abbiamo mai avuto dei cenni un'altra cosa che mi viene chiesta spesso e volentieri è ma se io sono in Rivals a 2.900.000 punti questa cosa mi va a incidere sul mio matchmaking in Weekend League assolutamente no e vi assicuro che se notate delle differenze magari avete fatto degli esperimenti dalla prima 2.000 punti siete scesi alla terza a 1.600 punti e avete visto che in terza trovate avversari più scarsi vi assicuro che è solo caso e vi ribadisco che l'unica cosa che influenza il matchmaking a noi noto è la forma un'altra cosa è perché metti i bronzini in panca i beroschi dei miei stivali cosa sai tu che io non so fondamentalmente nulla perché questa cosa dei bronzini in realtà è un po' un effetto placebo nel senso serve ad abbassare la valutazione nella speranza che magari contro vi matchi uno con la vostra valutazione ma in teoria sta cosa non avviene anche se anche se sul tema bronzo aleggio un po' di mistero perché durante i tornei competitivi a noi ci viene messo come restrizione di mettere in panchina giocatori con 75 overall o in su quindi ci viene proibito di mettere i bronzini per abbassare la valutazione quindi mamma e papà yay che cosa ci stai nascondendo perché durante i tornei non possiamo usare i bronzini in panca e weekend league lo possiamo fare perché fondamentalmente lo fanno tutti quindi su questo tema un po' più oscuro aleggia e vi ripeto serpeggia un po' di dubbio in più ma comunque non è che se mettete la panchina di tutti bronzo fate 30-0 beccando tutti i bidoni assolutamente no e niente quindi fondamentalmente per quanto riguarda il matchmaking le nozioni fondamentali sono queste spero di avervi sciolto un po' di dubbi spero che questo video vi sia piaciuto vi ricordo come al solito di lasciare un like di commentare facendomi sapere la vostra vi ricordo l'iscrizione al canale che stiamo volando amici miei cresciamo che è una bellezza vi ricordo in info box tutte le informazioni per le live giornaliere sulla piattaforma viola e a me non resta altro che salutarvi ciao raga ciao a tutti ciao a tutti